Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Gian Nattasio. Traffico regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A1 fare attenzione per un camion fermo nel tratto compreso tra Chiusi Chianciano e Fabbro in direzione Roma. Operai a lavoro sulla FIPI LITRA, il centro intermodale ovest e il centro intermodale est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Siena, riduzione di carreggiata per lavori tra Bargino e Tavarnelle e scambio di carreggiata tra Impruneta e San Casciano Nord. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, fondo stradale dissestato tra l'incrocio del valico del Cerreto e l'incrocio di Reggio Emilia in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!